Musica Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense Ferrara. In questi ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali che sono diventate ormai nazionali queste elezioni, la città estensa e la sua provincia sono al centro dei veleni tra i vari schieramenti politici. Dopo il caso Solaroli adesso c'è un caso, Yolanda di Savoia, tanto che entrambi sono finiti in procura con degli esposti, sentiremo tutto a breve, ma poi c'è anche il questore che ha chiuso altre due attività commerciali per la vendita di alcol ai minori e poi vedremo le novità importanti per la sanità ferrarese. Ma come detto partiamo dal caso Solaroli. Questa mattina è stato presentato un esposto di quattro pagine in procura Ferrara da Mario Zamorani che è candidato alle elezioni regionali per Più Europa. Il caso Solaroli-Ferraresi, ma è anche il caso Fabri e Lodi, perché c'è la compartecipazione, lo asserisce Solaroli, non io, anche di Fabri e di Lodi. Questa mattina alle 9.30, come avevo annunciato, io mi sono recato alla Procura della Repubblica e ho presentato un esposto di quattro pagine. Quindi si configurano una serie di reati, una serie di reati penali. Intanto la concussione, vale a dire la promessa indebita di utilità o di denaro, poi c'è l'articolo 317 del Codice Penale, io li devo leggere perché non li conosco a memoria, poi l'induzione indebita a dare o promettere utilità, articolo 319.4 del Codice Penale, ancora traffico di influenze illecite, articolo 346 bis del Codice Penale. Questo cosa significa? Che ci sembra a noi che questi signori che adesso sono i nuovi inquilini del palazzo, non solo non rispettino le regole interne, vale a dire le regole del Consiglio Comunale, questo è stato più volte denunciato, ma sembra che non siano in grado neanche di rispettare le leggi. E qui è il problema che si fa a serio. A questo punto dovrà intervenire un pubblico ministero che è l'unico che ha la capacità tecnica di esercitare tutte le indagini necessarie e utili per verificare se queste ipotesi di reato che noi indichiamo sussistono o non sussistono. E anche quello che è diventato il caso di Yolanda di Savoia è finito in procura il sindaco del comune ferrarese. Paolo Pezzolato ha segnalato alle autorità giudiziarie una serie di comportamenti e di anomalie, le ha definite. Il primo cittadino si riferisce a una presunta telefonata ricevuta dal presidente della regione Emilia Romagna e candidato alla riconferma con il Partito Democratico, ovvero Stefano Bonaccini, al centro della questione la revoca di tre dipendenti al comune di Yolanda di Savoia, il cui ex sindaco Elisa Trombin, molto vicina all'attuale primo cittadino. Questa revoca sarebbe venuta quando lei avrebbe presentato la sua candidatura a sostegno di Lucia Borgonzoni alle prossime elezioni regionali. E appunto oggi Lucia Borgonzoni era a Ferrara, ha parlato di questo caso, ma anche del caso Solaroli, ma era in città per presentare il proprio programma e quello della lista civica che la sostengono. La candidata a presidente della regione Emilia Romagna del centro-destra, Lucia Borgonzoni, ha fatto tappa a Ferrara. Il punto di ritrovo è avvenuto in zona GAD, al Caffè Venezia di Viale Po, a supporto dei civici che la sostengono. Con lei anche il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, che ha sottolineato di non essere candidato, ma semplicemente di sostenere le proposte messe in campo dalla rete civica. Diversi temi affrontati dalla candidata, da quelli regionali, evidenziati anche nel confronto della giornata precedente con il candidato Stefano Bonaccini, fino a casi locali, a partire da quello relativo al consigliere leghista Stefano Solaroli. Non penso che c'è niente ovviamente il comune, perché non si può tirare in ballo comune, perché c'è un'offerta di altro tipo. Una persona che Massimo avrà sbagliato lui, vedranno davanti ai magistrati chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, qual è la verità. All'inizio, come era uscita, sembrava quasi che avesse offerto un posto di lavoro pubblico. È anche un pochino diversa proprio tutta la situazione rispetto alla narrativa che c'era stata all'inizio. Immediato poi il richiamo alla presunta dichiarazione dell'attuale presidente Bonaccini, che avrebbe penalizzato collaborazioni con Yolanda di Savoia in seguito alla candidatura della vice-sindaca Trombin nella civica della Borgonzoni. Sì, veramente. E mi piacerebbe, come ho detto, che Bonaccini dicesse, sì, potete ascoltare l'audio, così tutti ci togliamo, io non l'ho ascoltato, per cui gli sarebbe grave, perché gli sarebbe una questione politica molto grave, che una persona che di fatto è presidente ancora della regione, che l'ha fatto quando era presidente, possa fare pressioni su un comune, poi si vedrà, non vedrà, se i dipendenti di chiamati erano per quel motivo o per l'altro, però per me già è un problema se il presidente di una regione chiama un sindaco e gli dice tuo vice-sindaco, e poi chiama il sindaco, e il vice-sindaco, dovrà chiamare lei, però se chiama il sindaco e gli dice se il tuo vice-sindaco si candida con X, poi dopo non chiamare più, non ti fa sentire, poi succederà chissà cosa, questo è di una gravità. Con la lista civica in particolare, Lucia Borgonzoni fa leva sugli indecisi, sostenendo l'alternanza per il bene della regione e sottolineando la meritocrazia alla base delle proprie regole. E conosciamo a questo punto alcuni dei candidati locali della rete civica che sostiene la candidatura a presidente di Lucia Borgonzoni. La lista rete civica per Borgonzoni presidente sostiene la candidata da un'ottica esterna a quella dei partiti. Lo sottolineano con convinzione i candidati locali presenti in mattinata con Lucia Borgonzoni e che hanno spiegato così il motivo del loro sostegno. Perché noi civici prescindiamo da qualsiasi ideologia partitica e pertanto portiamo avanti quelli che sono veri gli interessi della comunità che andremo a rappresentare. Mi sento veramente civico perché non ho mai fatto parte a nessun partito a differenza di alcuni candidati dell'altra lista civica di Bonaccini. Il ruolo dei civici è quello di presidiare sempre e comunque chiunque vinca destra, sinistra, centro e in basso le realtà, le esigenze dei cittadini tenuto conto che la Regione ha un enorme ruolo politico perché la Regione è lo snodo tra lo Stato centrale e la realtà dei comuni e quindi indirizza le linee politiche di sviluppo rispetto a delle deleghe. Candidati con ferroni e forni nella lista rete civica per Borgonzoni presidente sono anche il vice sindaco di Olanda di Savoia Elisa Trombin e l'ex presidente della Proloco di Goro Laura Beccari. Il ferrarese Vittorio Sgarbi chiuderà la sua campagna elettorale venerdì prossimo nel cuore della città in piazza Trento Trieste Sgarbi che ricordiamo è candidato consigliere capolista per Forza Italia alle regionali sarà alle ore 17 fra due giorni appunto in centro e parlerà ovviamente del suo programma Focus sulla cultura Sgarbi approfondirà anche alcune notizie degli ultimi giorni delle ultime settimane ovvero la prossima mostra di Banksy in città e la riapertura di Palazzo Schifanoia di Ferrara quindi qua lo vedete mentre appunto annuncia questo appuntamento elettorale e adesso però parliamo di cronaca perché ci sono due locali chiusi dal questore colpevoli di aver venduto alcolici a minori continua così il giro di vite da parte del questore contro l'abuso di alcol tra i giovani i numeri infatti emersi questa mattina in conferenza stampa non sono confortanti in Italia i giovani iniziano a bere alcolici prima dei coetanei europei circa 1 su 5 a 12 anni e sono in aumento a livello nazionale in questo scorcio di 2020 i morti sulle strade causa uso dello smartphone alla guida o per l'abuso di alcol queste le statistiche che preoccupano la questura di Ferrara impegnata da anni a combattere l'abuso di alcol soprattutto tra i giovani risalgono un mese fa gli ultimi episodi che hanno spinto il questore di Ferrara Giancarlo Pallini a imporre la chiusura temporanea e successivamente una limitazione dell'orario a due attività commerciali di Ferrara una rosticceria gestita da persone di origine cinese e un mini market entrambi in via area nuova avrebbero venduto alcolici a 4 minorenni che poi si sarebbero recati alla festa no alcohol della vicina discoteca college gli addetti alla sicurezza del locale da ballo vedendo i giovanissimi tentari di entrare con gli alcolici in discoteca hanno segnalato l'episodio alla polizia di stato che grazie alle indagini della divisione Pasi che è la divisione di polizia amministrativa sociale all'immigrazione della questura hanno fatto emergere le irregolarità le quali hanno spinto poi il questore a sospendere la licenza per queste due attività dieci giorni di chiusura per la rosticceria due mesi invece per il mini market risultato recidivo Emanuela Napoli dirigente della divisione Pasi di Ferrara ha sottolineato come gli agenti se fino a qualche anno fa andavano solo nelle scuole superiori a sensibilizzare i giovani contro l'abuso di alcol adesso iniziano gli incontri anche alle scuole media e l'azienda USL di Ferrara ha ottenuto l'accreditamento regionale cosa vuol dire però sulla vita quotidiana dei pazienti ferraresi lo scopriamo in questo servizio investimenti e progetti per migliorare la sanità e i servizi ai ferraresi che devono essere sempre più consapevoli di quello che l'azienda USL offre sono soddisfacenti secondo la direzione aziendale i risultati dell'accreditamento regionale ottenuto dall'azienda USL di Ferrara che conta più di 3.000 lavoratori dipendenti e convenzionati una commissione ha valutato come viene organizzata l'azienda tre giorni di verifica dal 10 al 12 dicembre scorsi per ottenere il rinnovo tra le sofferenze del sistema USL emersi in conferenza stampa la carenza di medici come in altre zone della regione in particolare i medici specialisti ottimi invece i risultati per le tempistiche delle liste d'attesa è stato detto e tra i vari impegni c'è quello di mantenere l'assistenza continuativa e aumentare la domiciliarità dei servizi la commissione ha ritenuto eccellenze tra le altre l'introduzione di modelli sanitari innovativi la comunicazione e il riordino della rete ospedaliera ma qual è l'impatto dell'accreditamento sulla vita dei ferraresi non stiamo parlando di aria fritta parliamo di cose reali la centrale di dimissione gli accordi con i medici di medicina generale la presa in carico dei pazienti cronici lo sviluppo delle case della salute gli ospedali distrettuali cioè tutto quello che noi stiamo mettendo insieme le scelte che abbiamo fatto per equità il discorso dell'ostetrica mirata alla paziente il discorso anche della mediazione culturale per le pazienti straniere cioè sono cose che danno un valore aggiunto vero di equità al sistema sanitario dopodiché noi ci integriamo con l'azienda ospedaliera ci integriamo fondamentalmente con l'università facciamo in modo anche di avere finalmente dei professionisti universitari che lavorano per l'azienda territoriale facciamo in modo di lavorare con i servizi sociali particolarmente quelli dei comuni le ASP perché in questa maniera riusciamo a dare delle risposte ai cittadini più consone più complete se noi questa cosa la stiamo realizzando è proprio perché c'è la disponibilità di tutti di far sì che questo avvenga nella maniera più semplice più chiara possibile ma se ci sono delle criticità è bene che su queste si lavori senza dimenticare che però i professionisti di questo territorio nello specifico nella mia azienda ci sono 3.000 dipendenti che lavorano tutti i giorni con grande spinta e con grande sforzo per dare una risposta adeguata ai cittadini ferraresi e questa cosa attraverso questa riorganizzazione si sta verificando e torniamo a parlare di politica e di campagna elettorale i temi ambientali sono al centro del programma del Movimento 5 Stelle ce ne ha parlato il candidato ferrarese Claudio Focchi in questa intervista è Simone Benini il candidato a presidente della regione Emilia Romagna del Movimento 5 Stelle diversi punti di forza che ne caratterizzano il programma come evidenziato dal candidato ferrarese Claudio Focchi naturalmente abbiamo dei punti di forza del nostro programma che nessuno dei due presidenti altri concorrenti quindi la Borgonzoni e Bonaccini possono vantare o hanno dimostrato di mettere in pratica abbiamo punti dell'ambiente la tutela ambientale la mobilità e soprattutto la sanità che sono tutti i punti su cui ci differenziamo dagli altri candidati dell'Emilia Romagna in particolare si sa che il nostro cavallo di battaglia e anche le nostre stelle sono sull'ambiente sull'ambiente abbiamo delle proposte molto importanti che mirano a cambiare la società in cui viviamo migliorandola e spostandoci verso altre fonte energetiche abbiamo messo abbiamo evidenziato come sia possibile in 15 anni rinunciare progressivamente al petrolio e spostarsi verso le energie rinnovabili ed è per questo che proponiamo l'attivazione e l'implementazione del reddito energetico questo circolo virtuoso che si allontana dal consumo delle energie fossili su cui adesso non posso dilungarmi ci vorrebbe molto tempo ma anche e soprattutto contestiamo la legge Donini che ha messo in atto un'occupazione del suolo e una cementificazione dell'Emilia Romagna che non ci va assolutamente bene vediamo allora come si vota domenica prossima per le regionali e quali sono le modalità per votare per l'elezione del presidente per il rinnovo dell'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna si vota nella sola giornata di domenica 26 gennaio i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 l'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza per quanto attiene le modalità di voto ciascun elettore può votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della giunta regionale a essa collegato votare solo per un candidato alla carica di presidente della giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo votare per un candidato alla carica di presidente della giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una delle liste a esso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Parliamo adesso di scuola perché prende il via martedì 28 gennaio, martedì prossimo la seconda edizione del progetto Edufin Docenti 2020, un corso gratuito di 33 ore rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine grado anche della provincia di Ferrara. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. Io credo che sia un'alfabetizzazione necessaria perché oggi la vita quotidiana, cioè le scelte che noi facciamo di acquisto, di movimentazione del nostro denaro, di accesso al credito, quindi aprire attività o anche semplicemente comprarsi una casa, passano per un sistema finanziario che è unidirezionale, cioè nel senso che non ci dà la possibilità di essere una parte contrattuale, non ci dà la possibilità perché non conosciamo delle informazioni. Quindi sapere più cose sicuramente ci mette nella condizione come cittadini, come elettori di poter rivendicare anche un maggior potere. Credo che anche la questione per esempio della grave, della cassa di risparmio di Ferrara, se ci fosse stata una maggiore alfabetizzazione finanziaria, probabilmente molte persone non sarebbero incappate in queste tristi vicende. Che cosa secondo lei potrà cambiare, o che cosa è cambiato anche nella sua attività quotidiana di docente, l'avere frequentato questo corso oppure, per chi ancora non l'ha fatto, frequentarlo? Nella mia attività di docente io insegno agli adulti presso il CPA e quindi molto spesso gli adulti, sono adulti stranieri, nella maggior parte chiedono informazioni anche di questo tipo e quindi essere preparati sulla risposta sicuramente aumenta la professionalità. Per tutti gli altri docenti credo che un docente sia automaticamente un veicolo di informazioni, anche se non è la propria materia, la propria competenza, comunque un docente nella sua attività deve essere in grado di fornire sempre delle risposte. Quindi anche su delle cose pratiche di questo tipo, sia ai bambini che fanno delle volte delle domande veramente impertinenti perché nella loro semplicità chiedono cose molto banali, come appunto cos'è la moneta, credo che un docente dovrebbe essere in grado di poter rispondere che cos'è la moneta. Come invitare i suoi colleghi, i colleghi della scuola pererese, a descriversi a questo corso? I tempi sono anche molto stretti perché la scadenza è al 28 di gennaio e presso tutte le scuole di tutti gli istituti è possibile lasciare la propria iscrizione che poi saranno convogliate presso il CPA. Io invito veramente i colleghi docenti, io sono una maestra prima di insegnare agli adulti e credo che questa formazione sia basilare per la propria vita e anche appunto per dare queste risposte. Purtroppo i tempi per tante cose sono stati stretti ma si può fare, non è un impegno gravoso e il risultato è molto confortante. Questa sera su Telestense torna l'appuntamento con Campagna Amica News, il festival della vitamina C al mercato coperto di via Montebello a Ferrara con degustazioni per spiegare le proprietà benefiche degli agrumi. Questo è uno degli argomenti della puntata in cui conosceremo anche alcuni agricoltori che dalla campagna portano i loro prodotti in città e parleremo anche dei bandi della regione Emilia-Romagna per scoppi ambientali e per la conversione a tecniche di coltivazione biologica nelle aziende agricoltura che sarà protagonista su Telestense anche alle ore 21.30 sempre questa sera con i piedi per terra oggi, mentre alle 22.40 sulla tv di Ferrara ci sarà la trasmissione Donatori si nasce con le testimonianze e le storie dei donatori Avis. Con questo è tutto per questa edizione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale e anche al sito telestense.it e i profili social per rimanere aggiornati su tutto quello che accade a Ferrara e provincia. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.